Il compito morale che sento è lo sforzo mortale dei viventi, sotto un cielo celeste distante, allo sprofondare della terra, sostenere della notte la guerra, eludere e risolvere ogni tormento, non somigliando di essere ma essendo contraddizione appartenere all'umana preghiera, al folle grido, vento fragile, leggero come respiro, destino che muove una morte nera, la vera partita a scacchi dell'uomo, l'apertura attaccando senza la pretesa in realtà di difendere tutto o nulla, tanto più il re o la finta narrazione, l'azione di illuminazioni improvvise, continuamente amando sino alla morte, vivere costruendo giorno su giorno un'autenticità romantica fedele alla fragilità illusoria, enigmatica della vita che sale al cielo, non togliendo nulla all'esito scontato, anzi sublimandolo profondamente, resuscitando. Grazie.